Cosa lega lo swing al principe ranocchio o cappuccetto rosso alla musica rock? Tutto è possibile alla scatola magica del piccolo teatro Streller, che si trasforma in un bosco incantato dove piccoli spettatori, forse bambini, forse folletti, siedono sul tappeto verde nel mezzo della sala. E tutto intorno a loro, come per magia, prendono vita le fiabe dei fratelli Grimm, messe in scena da Stefano De Luca, in un duplice spettacolo che unisce recitazione, musica e immagini animate. Cappuccetto rock e principe ranocchio swing. Abbiamo deciso di raccontare queste due fiabe famosissimi. Collegando ciascuno delle due fiabe a uno stile musicale e utilizzando un'interazione degli attori con delle animazioni, con dei disegni animati che scorrono su degli schermi. Questo insieme, diciamo, di mezzi che abbiamo usato per coinvolgere i bambini all'interno dello spazio della scatola magica. Una messa in scena moderna e divertente per due storie senza tempo, che da generazioni alimentano la fantasia e i sogni dei bambini. Insieme! Le fiabe sono eterne davvero e i bambini di oggi le vivono esattamente nello stesso modo in cui le vivevano i bambini di cento anni fa. Perché permettono a loro di affrontare le paure in un modo simbolico e quindi universale, assolutamente sganciato dal tempo. Lorenzo! L'atmosfera giocosa del principe ranocchio danza sui ritmi della musica swing, mentre ai toni più cupidi, cappuccetto rosso, fa eco il grande rock dei Doors, dei Muse e dei Pink Floyd. E sul palco immaginario i personaggi delle fiabe strizzano l'occhio alla platea colorata di verde, cancellando il confine tra realtà e finzione, tra gli stessi attori e il giovane pubblico. Quando prometto a Ranocchio di portarlo con me faccio vedere a tutti tranne a Ranocchio che ho le dita incrociate e con i bambini funziona. Stanno dalla mia parte. Quando lui dice eh però tu hai promesso, poi non ha mantenuto la promessa. Io dicevo sì ma io c'avevo le dita incrociate e le bambine soprattutto mi davano tutte ragione. È vero, è vero, c'ha le dita incrociate quindi non vale. Fantastico proprio. I bambini sono abituati forse a relazionarsi di più con le macchine in qualche modo, no? Con gli smartphone, i tablet, la tv. La fiaba vissuta come si viveva una volta, con una voce che raccontano, è meno praticata. In questo caso abbiamo fatto un passo verso i bambini proprio mescolando i linguaggi. Gli attori raccontano, impersonano i personaggi, quindi usano il teatro, però ci sono anche questi mezzi a cui i bambini sono abituati, cioè l'immagine, la musica, il suono, l'interazione. Così la magia delle fiabe si somma a quella del teatro, dove le maschere di principesse, ranocchi o di lupi cattivi, sono espedienti che narrano frammenti di vita, fatta di incontri e di scontri, di presunti antagonisti o inattesi alleati, di scelte sagge e di piccoli errori. Noi siamo all'interno di un contenitore, raccontiamo due fiabe ma allo stesso tempo precisiamo che noi siamo due attori, siamo due persone normali come loro che si prestano, che diventano qualcos'altro. Quindi la trasformazione, il gioco è tutto quanto un modo per far vedere aspetti della vita, a volte anche non del tutto positivi o semplici o belli, agli occhi di un bambino. Grazie. Grazie a tutti.